Io non è che posso favorire lei a scapito dei suoi colleghi, mi capisce? Come no? Allora che fa? Ha deciso di trattenersi, si rinfresca, si fa un bagno in piscina Cioè per il costruzzo ce lo do io, eh? No, veramente, non posso Sicuramente Grazie mille Siani, io la elenco Ehi Un po' più di musica Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille